Maxi operazione dei carabinieri di Cagliari scattata all'alba nel capoluogo, ma anche a Sassari e Nuoro, che ha portato all'arresto di 7 persone e altre 7 destinatari dell'obbligo di dimora. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal GIP di Cagliari su richiesta della procura e arrivano dopo una dettagliata indagine condotta dal nucleo investigativo di Cagliari su un gruppo criminale specializzato nel traffico di droga con un giro d'affari da 100.000 euro, ma la droga non era l'unica attività di alcuni di loro. L'attività investigativa è nata da uno stralcio dell'inchiesta sulla tentata rapina al Banco di Sardegna messo a segno il 5 agosto del 2016, in Viale Marconi e Cagliari, da tre banditi travestiti da carabinieri, poi arrestati nel dicembre del 2017. Alcuni di loro inoltre programmavano di mettere a segno altri colpi, tra i quali uno al mercato ortofrutticolo di Sestu nel 2016 e nel 2017, mandati in fumo dall'attività di indagine durata da settembre 2016 a maggio 2017. Sono stati sequestrati 4 kg di droga tra hashish, marijuana e cocaina. Impegnati oltre 80 uomini dei rispettivi comandi provinciali, con l'ausilio di diverse unità cinofile e militari dello squadrone eliportato cacciatore di Sardegna, con il supporto aereo di un velivolo dell'undicesimo nucleo elicotteri di Elmas.